Gianluca, 20 punti, tanta leadership in uscita dalla panchina, ma soprattutto con te vorrei sottolineare come nell'ultimo mese e mezzo stai diventando un giocatore fondamentale per questa squadra. Sto cercando di dare il massimo in uscita dalla panchina, ovviamente in campo si comincia in cinque ma abbiamo dimostrato che nella squadra ci possono essere molte alternative che sia realizzative di energia sotto tutti gli aspetti che poi sono più aspetti che vanno a incidere su una partita. Sì, sto trovando un equilibrio come giocatore all'interno di questa squadra che comunque è una squadra che si sta rivelando molto importante, cercare di dare qualcosa in termini importanti soprattutto quando poi il campionato comincia ad andare avanti, la stanchezza comunque anche il fatto che le squadre cominciano a conoscerci è importante aggiungere sempre qualcosa in più col tempo. Sette vittorie consecutive, la cosa bella Gianluca è che non sono mai state vittorie in bilico, nel senso le avete tutte vinte molto molto bene, cosa significa? Sicuramente è una prova di forza perché comunque questo campionato lo sta dimostrando, al di là della vittoria ci sono partite che possono essere in bilico e comunque anche con risultati che possono stravolgere il pronostico. Noi stiamo dimostrando di avere solidità mentale che fa la differenza e comunque è l'aspetto dell'attenzione e la voglia di vincere che fa questa differenza in questi termini. Succede che poi se viene a mancare questo, poi la partita si rischia di giocare punto a punto e punto a punto poi la può vincere una squadra o la può vincere un'altra. Noi comunque entriamo concentrati con un obiettivo ben preciso e poi il campo ci sta dando ragione. Derby a Giulianova per l'ottava. Giulianova è una squadra in forma, comunque al di là della sconfitta di oggi con Chieti sta facendo un super campionato, è una squadra che ha ben preciso le cose che fa in campo, intensa. È un campo difficile, ci hanno perso tante squadre, noi andiamo lì, comunque vogliamo continuare la nostra striscia, manca poco per il nostro primo obiettivo stagionale che è la Coppa Italia. Noi vogliamo andare lì a prendere due punti e dimostrare che ancora una volta, un passo alla volta, ci siamo in questo campionato.